Allora, in queste vacanze diamo via un nuovo formato nel senso che spieghiamo cosa andiamo facendo. Stiamo andando a visitare la cattedrale di Rugo di Cuglia, è una cittadina medievale della Cuglia di Cinovario. Dopo che ci siamo strafogati con le orecchiette e come si chiamavano quegli alti miei calcarini, mi sembra Casatella, ma Casatella è una cosa. No, Casatella non c'è più cazzo, non mi ricordo. Questa è la famosa cattedrale forse? Ma no, andate, andate. Siete 10 minuti, cominciamo già con le polemiche sterili. Sarà un bel viaggio, come al solito. Adesso invece, quindi, cosa facciamo? Andiamo a Casatella di Monta. Andiamo a prendere la nostra macchinina, tra l'altro la nostra bella sorpresa di avere un SUV invece che una panda. non si va, con la Apple Car Play. Allora, siamo arrivati a Castel del Monte. Prima la Matilde mi stava raccontando la storia interessantissima di questo castello. che non si sa che cosa sia. Prima mi hai detto più. Ha che scopo di inizio utilizzato. Questo è il Bel Monte che è questo coso qui. Sì. Ha una forma ottagonale. È stato voluto da Federico, non mi ricordo che numero. Federico di cosa? Non mi ricordo nemmeno di cosa. Non mi ricordo nemmeno di cosa. Un e le diretteremo. естitosti come sia che"... Andiamo a berservare. Grazie! Grazie a tutti. Siamo arrivati a Matera? Sì, in questa tata. Noi siamo qua. Che siamo noi? Qui. Ok. Dobbiamo fare via due minzoni. Vi è cappelluti. Andiamo, andiamo. Cominciamo subito con un buongiorno, è la Matilde che parte con la modalità cartina. Sì, dove cazzo andiamo? Andiamo a vedere. Si pensava di fare un giretto per Matera, abbiamo fatto il parcheggio fino al pomeriggio. No, fino a noi. Qua non so, aspetta. Pistotto che dobbiamo decidere dove andiamo. Dove siamo? Perché come è? Almeno è diventata una bella giornata. Vediamo tra poco dove andiamo a finire. 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 piccolo cambio di scena 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 oggi abbiamo cambiato un'altra volta scenario siamo tornati dal mare a vedere i trulli di albero bello eccoli qua i primi trullettini musica piccolo cambio di scena piccolo cambio di scena piccolo cambio di scena piccolo cambio di scena questo invece è Ostuni si chiama città bianca perché vedi da lontano è bianca qui è bianca anche se non sono un grande amante del mare, questo ha un suo perché, dai! Si chiama Punta Prosciutta, è tutta una spiaggia lunga 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 della località Punta Prosciutta. Siamo un pochino sopra. Siamo sopra Porto Cesareo. Stasera siamo a Gallipoli, siamo qui a Monin. Siamo un pochino sopra. Siamo andando a vedere Capo Atratto, Punta Più. No. Italia. Italia. Ciao. 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 Buongiorno di Lecce Buongiorno di Lecce